Insomma, Marchese, esisterà un luogo onde poter inserire il nostro membro in qualsivoglia passera? Oppure no? La ricerca deve essere lenta, perché non è bello solo andare, è bello guardare, contrattare, vedi? Guarda bene, vedi? Wow, ma che bella spagna! Eh, lo so, è sua però! Ma è le poppone, meglio! Guarda che mozzarella! Ma questo che è? Un laido! Boh! Oh, guarda, è sta ferma, ferma, è un travello! Quanto vuoi? 70.000 in camera E in cucina?